Ciao, sono Panda Baffuto e questa è Inchiostro Caffè, la mia nuova serie su YouTube. Allora, visto che questo è il primo episodio, vi spiego un po' come funzionerà. Io sono una studentessa di graphic design all'università e mi piace molto disegnare, quindi ho deciso di fare questo canale e soprattutto questa serie, dove parlerò un po' di disegni e delle mie esperienze in maniera molto tranquilla, come se si fosse un po' in un caffè e in un bar. Questa idea mi è venuta perché io in realtà seguo molte persone che fanno video di questo genere, però sono tutti americani o comunque parlano inglese. Per esempio Holly Brown è una ragazza che seguo e fa questi video dove lei parla delle sue esperienze, di commissioni, di professori o comunque di cose relative principalmente al mondo artistico e mette semplicemente come sottofondo di video dei suoi speedpainting. Quindi questo è quello che voglio fare anch'io, visto che ho notato che nella community americana ce ne sono molti di queste persone, ma in quella italiana non ho trovato nessuno, soprattutto di disegno. Cioè ci sono persone che parlano di cose, però di solito sono video con un copione, insomma, per esempio quelli di Frafrog me li vedo, mi piacciono, però si vede che non sono casuali, mentre io vorrei una cosa un po' più come un podcast, che è quello che di solito sento mentre lavoro. E quindi ho deciso, beh, se non c'è nessuno posso cominciare io. E praticamente qui parleremo appunto, praticamente solo di argomenti artistici, beh, non solo, dipende anche come andrà, perché ho intenzione di fare circa due video a settimana, almeno adesso che non ho ancora l'università, cercherò di fare due video a settimana. E ho già qualche argomento in mente di cui parlare, anche di argomenti di cui hanno già parlato altri youtuber americani, ma che nella community artistica italiana non si sono discussi per nulla, invece vorrei un po' portare la discussione anche qui. E poi potrei voler parlare anche dell'università, visto che comunque facendo graphic design faccio una professione creativa, e perciò potrebbe essere utile a qualcuno che vorrebbe fare qualcosa di creativo con la propria vita. E appunto per questa cosa degli argomenti vi chiedo se vi va di lasciarmi delle domande o lasciare dei commenti in cui mi consigliate di cosa parlare. E anche di seguirmi su Instagram, dove avrete tutti gli aggiornamenti sui video quando vengono postati, e potete anche scrivermi in privato se non vi piacciono i commenti di YouTube. E per il resto questo è tutto. Ci vediamo sempre questa settimana, fra qualche giorno, con il primo video vero, dove penso parleremo anche per una ventina di minuti perché l'argomento è un pochino piccantino. Quindi ci vediamo la prossima volta. Ciao! 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 Ciao!